Signorini sulla mancanza di empatia dei Geffini per il dolore di Luzzi. Un quadro triste. La causa rimane misteriosa. La mancanza di compassione dimostrata da alcuni concorrenti del Grande Fratello di fronte al lutto di Beatrice Luzzi ha sconvolto gran parte dello spettacolo e anche Alfonso Signorini, che ha condiviso la sua delusione nei giorni scorsi sui social media. La mancanza di empatia mostrata oggi da alcuni concorrenti del Grande Fratello mi lascia davvero senza parole. A lunedì, tuttavia, coloro che speravano in una pubblica condanna o una dichiarazione ufficiale, o addirittura l'espulsione, sono rimasti delusi. Alla fine, essere empatici non va contro le regole. Durante l'intera puntata, Alfonso Signorini ha evitato di esprimere direttamente la sua opinione, manifestando il suo dispiacere senza riferirsi a nomi specifici. Ha anche menzionato l'incidente nell'ultimo numero del settimanale chi, rispondendo a una lettera di un lettore, la casa del Grande Fratello riflette la società in cui viviamo. Una società in cui, salvo casi estremi, non possiamo eliminare coloro di cui potremmo fare a meno. Come sapete, sono profondamente addolorato anche per la mancanza di sensibilità dimostrata da alcuni inquilini, non tutti, va detto, nei confronti di chi ha condiviso con loro l'intimità per quattro mesi. Non riesco a capire la causa di questa mancanza di empatia, forse la giovinezza, forse l'isolamento causato dal Covid che ci rende sempre più immaturi. Non lo so, ma sono triste per questo. Profondamente triste.